In atto, e molto stiamo ragionando in questi giorni qui al Festival del Futuro, spaziando fra gli argomenti, adesso ne abbiamo approfondito uno economico, parlando di gestione del patrimonio, ma nella nostra visione prospettica non mancano i temi legati alla medicina, la medicina dentro l'atomo. Ce ne parlerà il direttore dell'officina radiofarmaceutica con Ciclotrone, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedale Sacro Cuore Don Calabria, ospedale Negrar Giancarlo Gorgoni. Grazie, è un tema quello che ci racconterà, ci illustrerà, che approfondisce uno scenario che per molti è tutto da esplorare e da scoprire. È un'esplorazione, è un'esplorazione che spero possa essere interessante raccontare e vedere un po' quello che è la realtà e soprattutto il futuro di una parte della medicina. Mi metto fra coloro che osservano. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ringrazio l'organizzazione per questa opportunità che mi viene data. Per me è un palco realmente nuovo, non è un bellissimo scenario oltretutto. Ringrazio anche un po' la platea e spero di non annoiarvi con quello che è il mio racconto di quello che è la professione relativa alla medicina. La medicina dentro l'atomo perché volevo iniziare un po' a raccontare un tipo di medicina nuova, strana. A volte fa paura perché ho voluto usare non quello che è il termine che normalmente si sente, nucleare, radiattivo, perché tendenzialmente crea un po' di paura, un po' di timore. E non c'è da aver paura, non c'è da aver timore. La medicina dentro l'atomo in qualche modo è un significato di medicina veramente molto piccola. Vediamo se riesco. Ecco, allora iniziamo con l'atomo. Che cos'è l'atomo? È un'idea che già ai tempi di 2500 anni fa con Leo Cipo, Democrito e Picuro in qualche modo ha iniziato un po' a fondarsi quella che è l'idea dell'indivisibile, atomos, greco, indivisibile. Non pensavo nei filosofi nel 400 a.C. a questa struttura, questo qua è un disegno, oltretutto è sbagliato, perché questo disegno fa vedere un nucleo all'interno, quello rosso, e degli orbitali, delle orbite di elettroni. Non è così, non funziona così. Considerate che l'atomo, quindi la struttura, una delle strutture più piccole della nostra materia, e attenzione, dico materia, è formata da un nucleo che è piccolo, se vogliamo fare un esempio, come un arancio, gli orbite degli elettroni attorno sono grandi come il mondo. E in mezzo a questo c'è il vuoto? Non si sa. Diciamo che il passaggio successivo è quello di traorbita e orbitale, allora a quel punto c'è un'indeterminazione, non è determinabile capire dove sono gli elettroni. E questo guscio che ruota attorno al nucleo, al nucleo in qualche modo non si capisce bene dove, non si può sapere, per un principio di indeterminazione, non si può sapere dove sono gli elettroni. All'interno dell'atomo, quindi, troviamo il nucleo piccolo, che è formato a sua volta da altre particelle, le cosiddette particelle elementari. Quindi abbiamo una materia, e dopo vedremo non solo la materia, che è formata da quelle che sono le particelle elementari, che sono i quark. I quark diversi tipi, che a loro volta, il quark up e il quark down, due quark up e un quark down formano il protone, il protone all'interno del nucleo, e invece due quark down e un quark up formano un neutrone, neutro, la carica è neutra. Abbiamo un nucleo, quindi, che è positivo, e attorno degli elettroni che sono negativi. La materia, fondamentalmente, si divide quindi in fermioni e bosoni. Mi seguite, è vero che dopo vi interrogo su questa cosa? I fermioni bosoni, i fermioni che sono poi divisi in quark e leptoni. Attenzione, perché questi termini, che sto buttando così sul palco, in qualche modo riverranno poi dopo fuori per capire perché c'è della medicina in questo, e si può sfruttare questo. Allora, quelli che sono i quark, abbiamo detto, quindi tre quark formano quelli che sono gli adroni, all'interno del nucleo, quello che è il protone e il neutrone, e i leptoni, tra questi troviamo quindi gli elettroni e altri. Non mi dilungo, gli elettroni sono appunto queste particelle cariche, duemila volte più piccole di un protone. E poi ci sono i bosoni, che sono delle particelle che mediano la forza. Il fotone media la forza elettromagnetica, elettromagnetica, il gluone, termine di origine inglese, che quindi diventa brutto, cacofonico, e quello che media la forza nucleare forte, i bosoni che mediano la forza nucleare leggera. Abbiamo fatto quindi un'introduzione di quella che è fatta la materia. A fianco a questo esiste anche l'antimateria. Ora, partendo da questi concetti, quindi partiamo anche che cos'è un'altra definizione, quella che è la radioattività, quindi le emissioni di radiazioni ionizzanti. E partendo da questo concetto di radiazioni ionizzanti, quindi una radioattività che può essere sfruttata per creare anche diverse cose, l'energia, indubbiamente, ma anche per essere sfruttata in campo medico. In questo grafico qua, è una tavola piuttosto complessa, fondamentalmente vengono messe sull'asse della Z, sull'asse dell'N, i protoni e i neutroni. Quando c'è un eccesso di protoni, si ha un rischio di decadimento, una possibilità di decadimento beta-, quindi degli elettroni, la radiazione beta- sono degli elettroni. Se si ha invece un eccesso di protoni, si ha un decadimento invece beta+, e quindi che sono gli positroni. Il blu sono i positroni, il rosso sono gli elettroni. Cosa sono i positroni? E' l'antimateria. Per tutto quello che abbiamo detto prima, i fermioni, i nucleoni, i protoni, i neutroni, esiste allo specchio speculare l'anti. L'antiprotone, l'antineutrone, l'antineutrino, eccetera, eccetera. L'anti-elettrone è chiamato positrone perché positivo. E questo sarà l'antimateria, sarà sfruttata in medicina, non solo. Quello che è il decadimento radioattivo comporta una trasmutazione. Poi ho finito con i termini un po' complessi, ma sono termini nuovi, non sono complessi, sono solamente nuovi, e spero in qualche modo di invogliarvi su questo capire. La radioattività è di diverso tipo, può essere alfa, beta, più, beta, meno, e comporta un cambio di materia. Quindi io parto da un ossigeno che ha otto protoni, mi diventa un fluoro che ha nove protoni. E' diverso l'elemento. Nella radioattività succede la stessa cosa, nel decadimento radioattivo. Decadimento perché quelli che sono i pixel in nero qua, di fatto sono un elemento, un elemento di ferro che può avere, per esempio, diversi isotopi. Cioè, cosa sono i diversi isotopi? Vuol dire che ci sono dello stesso elemento nuclei diversi, perché cambia il rapporto con i neutroni. Si crea un'alterazione. Quando si crea un'alterazione, si cerca la natura a riportarsi in uno stato di stabilità. E sono quei quadratini che vengono in nero. Chiaramente là è proprio uno schema giusto per far capire. A livello di radioattività, quindi, noi potremmo avere un decadimento che porta degli elettroni, o dei positroni, o delle particelle alfa, e queste verranno sfruttate in medicina. La radioattività verrà sfruttata in medicina per fare diagnosi e per fare terapia. all'interno della stessa molecola. È per questo che il farmaco radioattivo è innovativo ed è qualcosa di nuovo. Stiamo parlando, io sono partito con un'idea dell'atomo da quello che era di Democrito. Nell'inizio del 1800, John Dalton diede un'idea di quella che era l'atomo, che poi nell'800 e nei primi del Novecento si è sviluppato come un concetto come adesso noi ce lo immaginiamo. Quindi è partito da molto lontano, un pensiero che si è evoluto, degli studi che sono stati fatti negli ultimi anni, e un'applicazione, quella per poter vedere un'applicazione in campo sanitario, che parliamo di pochi anni fa. La possibilità quindi di applicare in medicina noi ce l'abbiamo nella struttura dove lavoro. Il radiofarmaco, quindi, partendo da questi presupposti, è una molecola, un farmaco è una molecola, che avrà una sua azione tendenzialmente terapeutica, nel senso che servirà a curare certe malattie. La novità, un po' in questa, nel radiofarmaco, è che che cos'è che permette di fare diagnosi o di fare terapia? Non è la molecola in sé, ma è l'atomo all'interno della molecola. E non è l'atomo neanche veramente in sé, ma è la radiazione che quell'atomo emette, la radiazione dall'interno del nucleo. Questa è una grandissima novità. è un qualche cosa che qualche anno fa, adesso non voglio dare le date precise, ma insomma stiamo parlando della fine del Novecento, non era conosciuto, non era, o si iniziava a conoscere in qualche centro di ricerca, ma certo non era una cosa che negli ospedali, nella comunità era possibile utilizzare. Era qualcosa di veramente molto, molto nuovo. Per fare questi radiofarmaci si parte da quello che è una struttura chimica. Quello là sopra che vedete, per esempio, è un atomo di zucchero, il glucosio, che è modificato. Nel senso che non è uno zucchero come quello che conosciamo normalmente, il glucosio, che è una parte dello zucchero. Vedete che c'è una F con un numero 18. 18 è il numero di protoni e neutroni. Va a indicare che è il numero atomico, il numero di protoni e neutroni. È un atomo instabile. Il fluoro 18, essendo instabile, decade, emette radioattività e questa radioattività verrà sfruttata. In questo caso emette positroni, emette antimateria, e questa antimateria verrà raccolta, con un processo che dopo vi dirò, verrà raccolta da una macchina, che sembra un tomografo, che raccoglie queste radiazioni, questi fotoni, poi vi spiego come si fa a passare dall'atomo di fluoro a dei fotoni, verrà usata per vedere, e dico vedere, perché si vede proprio su un'immagine di uno schermo di un computer, vedere dove è la malattia. Questa è l'altra grande innovazione, dovuta al fatto che noi riusciamo a vedere non solo l'anatomia, fare una fotografia interna, come avviene con la radiologia, un attack, una lastra, dove io vedo in qualche modo una fotografia interna dell'anatomia come cambiate dall'ade duco che ci sia una malattia o meno. No, il prodotto, il farmaco, uno di questi, che sono degli esempi, vanno a tracciare quello che è il metabolismo o la patologia. Lo zucchero, per esempio, perché lo zucchero modificato? Perché si concentra nelle malattie, nelle cellule oncologiche, nelle cellule tumorali, le cellule che sono molto avide, devono crescere, crescono a dismisura, questo è il problema della malattia, crescono a dismisura, hanno molta fame, hanno bisogno di mangiare molto zucchero. Lo zucchero modificato rientra là dentro, non riesce a completare il ciclo di glicolisi e quindi rimane intrappolato. Perché rimane intrappolato? Perché al posto di un atomo di ossigeno e idrogeno, un OH, un ossidrile, abbiamo un floro e quindi gli enzimi all'interno non riescono a riconoscere e bloccano in qualche modo il processo di glicolisi. Si concentrano, quelli sono altri esempi e va bene. Come si fa a produrre? Dove lo troviamo, questa radioattività che mettiamo all'interno dell'atomo? Beh, allora, le produzioni diciamo che sono divise in due grossi blocchi, quelle che si fanno con i reattori nucleari, questo è uno, negli Stati Uniti, dove si fanno produzioni, dove il flusso di neutroni serve per compiere delle reazioni nucleari. Sono i neutroni che andranno a bombardare il nucleo dell'atomo, cambiando quello che è il nucleo in un altro nucleo e quello che è una materia in un'altra materia, che sarà instabile e emetterà radiazione. Poi ci sono gli acceleratori di particelle. Gli acceleratori di particelle sono quelli invece tipo Susan, sono più piccoli i reattori nucleari, chiaramente sono un po' più complessi. Vediamo se riesco ad andare avanti. Questo qua è un esempio, là c'è un disegno, un cartone animato che spiega quello che succede all'interno di un ciclotrone. Cos'è un ciclotrone? È una macchina che permette l'accelerazione di particelle cariche, in questo caso troviamo uno ione idrogeno, uno ione idrogeno perché ha un solo protone ed è questo che viene usato. All'ospedale abbiamo un ciclotrone, una macchina che fa questo, viene accelerato sempre di più, sempre di più, a un certo punto vengono strappati gli elettroni, rimane solo il protone che a questo punto andrà, il fascio di protoni, andrà a incidere contro un nucleo di ossigeno, quel nucleo di ossigeno che è all'interno dell'acqua, della molecola dell'acqua. Molecola, quindi c'è l'ossigeno, due idrogeni, il protone che è stato accelerato in maniera ciclica da cui ciclotrone, sempre di più, energie sempre maggiori, sempre maggiori, come vedete nel disegno sopra, a un certo punto vengono strappati i due elettroni, rimane solamente un protone, il protone va a incidere sul nucleo dell'ossigeno e io ottengo una trasmutazione, ottengo una nuova materia, il fluoro partendo dall'ossigeno. Quel fluoro che è instabile e che quindi tenderà a cadere, a decadere e a emettere positroni. L'emettere positroni verrà poi sfruttato nella tomografia PET, positron emission tomography. Questa è un'applicazione di carattere diagnostico, come dicevo prima, perché permette di vedere dove escono questi positroni dal fluoro 18 quando tende a ritornare a essere ossigeno 18 e emette dei positroni. I positroni, siccome è antimateria e il mondo in cui noi viviamo è materia, a un certo punto, molto breve, si incontra con quella che è la materia. Quando un positrone incontra un elettrone, il che è immediatamente alla sua formazione, si annichila, sparisce. e questo sparire comporta la creazione di due fotoni, le particelle elementari che dicevo prima. Le fotoni sono quelle particelle che mediano l'energia elettromagnetica. Due fotoni di un'energia ben determinata, 511 kV, che partono in maniera diametralmente opposta. una volta fatto quindi il radionuclide, l'isotopo radioattivo, che quindi viene creato in laboratorio al piano terra della palazzina ciclotrone a Negrar, quindi senza andare al CERN, dove anche vengono fatti, ma per altri motivi è in maniera più complessa. O in altri siti industriali vengono fatti, quindi la macchina è complessa, ma è compatibile con quelle che sono le strutture sanitarie che possiamo avere in Italia, in Europa e un po' in tutto il mondo, ormai devo dire, si sta diffondendo piano piano in tutto il mondo. Una volta fatto l'isotopo radioattivo noi dobbiamo andare a creare la parte di molecola, quindi si parte dall'isotopo radioattivo creato in questo modo e avremo poi una parte di radiochimica, ovvero dove usando quello che è l'atomo radioattivo, la coniugazione con la molecola e quindi la creazione del prodotto finale. Una cosa ci tengo a sottolineare perché è caratteristica soprattutto dei radiofarmaci PET, ma di tutti i radiofarmaci in generale. Sono prodotti di cui non esiste il magazzino, non può esistere il magazzino, vengono prodotti e usati immediatamente perché la radioattività è brevissima. è un vantaggio dal punto di vista di gestione dei rifiuti, di radioattività nel paziente perché vengono somministrati chiaramente all'interno del paziente, questi spesso vi è endovenosa, comunque vengono somministrati nel paziente, nel giro di poche ore, a volte minuti, a volte anche meno, questa radioattività sparisce e quindi dobbiamo usarla subito e allora dobbiamo produrla, la radioattività, l'isotopo, dobbiamo produrre la molecola e dobbiamo anche controllarla per verificare che tutto sia a posto. Il processo di controllo è un processo che ovviamente non si limita solamente al prodotto in sé ma tutto quello che è il percorso che ci sta dietro, quindi un po' in generale quelle che sono il sistema qualità che viene detto che ormai diventa parte integrante di qualsiasi sistema, un sistema qualità è fondamentale per la gestione, l'organizzazione di qualsiasi sistema. In questo caso chiaramente oltre a questo c'è anche un controllo preciso di quello che è il prodotto che io ho appena fatto. Oltretutto considerate anche che spesso queste cose, questi radiofarmaci vengono utilizzati la mattina quindi la produzione avverrà di notte perché di notte io posso qualche ora prima comunque che arrivi il paziente io preparo questi prodotti e quindi li controllo e li utilizzo immediatamente. I controlli sono dei controlli cromatografici lo dico per curiosità comunque sono per capire quanta è la molecola fatta quella che c'è che mi interessa e quante invece sono quelle cose che non mi interessano che devono essere scartate nella produzione. Altra cosa ci tengo un po' a ribadire su quelle che sono una caratteristica dei radiofarmaci è quella di avere una vita molto piccola e siccome stiamo parlando il principio attivo è la radiazione e stiamo parlando a livello subatomico nel nucleo la quantità l'attività ponderale la quantità volumetrica peso e volume non hanno alcun senso o hanno senso dal punto di vista pratico per raccogliere una siringa per raccogliere anche per fare delle compresse insomma si possono fare e quando all'interno di un ciclotrone torno indietro con le slide un paio quando all'interno di un ciclotrone questo è quello che dobbiamo negare avviene questa reazione di ossigeno fluoro il volume di ossigeno di acqua che sta all'interno dell'ossigeno sono circa 3 millilitri questi 3 millilitri sono sufficienti per 3 regioni d'Italia più o meno potrebbe essere anche di più il problema grosso e siccome la radioattività decade velocemente sparisce velocemente è più una questione di problemi di logistica il produrre un prodotto a Verona e spostarlo per esempio in un altro ospedale a Vicenza a Mantua e quant'altro deve essere una cosa che deve essere ben organizzata appena lo produco l'isotopo sintetizzo subito la molecola faccio subito il controllo qualità spedisco se devo spedirlo fuori o lo utilizzo nel centro diagnostico che ho a fianco come avviene nel 90% dei nostri casi oltretutto dovuto appunto a questa caratteristica e quindi questa radioattività molto piccola questi tre questo volume scusate molto picco 3 ml è sufficiente per tantissimo il grosso problema spesso è un problema di logistica non è tanto un problema di quantità per questo non esistono magazzini ritorno quindi a quello che è il controllo qualità e in qualche modo a quello che è l'uso di radiazioni qual è il principio che c'è dietro all'utilizzo di questi radiofarmaci vengono assunti quindi dal paziente vengono sommistrati al paziente che avrà un decadimento il positrone come dicevo incontra un elettrone si annichila sparisce non esiste più né l'antimateria né la materia noi produciamo antimateria per farla sparire colpendo la materia e questa annichilazione produce due radiazioni due radiazioni che hanno una caratteristica importante sono opposte nel suo vettore quindi vanno in direzioni opposte a 180 gradi cosa succede sul tomografo quando il paziente è all'interno e emette le radiazioni del suo corpo verso il tomografo quindi anche qua attenzione un concetto opposto a quello che è la radiologia la radiologia spara delle radiazioni noi invece è il paziente che le emette le radiazioni il tomografo deve raccoglierle rielaborarle se da due punti passa una sola retta io posso indicare milioni miliardi di rette e capire all'interno quindi ricostruire l'immagine e vedere dove c'è per esempio la malattia qua sono il concetto il principio su cui si basa la tomografia per emissioni di positroni la PET e questo è un esempio per alcuni tipi di tumore tumore del pancreas tumore della prostata sono solamente due esempi sono quelli che attualmente sono più utilizzati potenzialmente può essere usato per tutto perché il principio attivo rimane sempre lo stesso è il veicolarlo che diventa diverso e avrà una farmacologia diversa somministrato si distribuirà in maniera diversa ma idealmente sempre lo stesso concetto e avevo parlato quindi un po' di quella che è la diagnostica come fare diagnosi molto precisa si può fare anche terapia a questo punto le radiazioni che vengono utilizzate non sono più positroni non sono più radiazioni beta più ma sono elettroni la molecola mi trasporta il prodotto proprio sul tumore e là la radiazione rompe la doppia catena di DNA e quindi mi uccide la cellula chiaramente devo uccidermi la cellula malata non tutte quante questa è una medicina di precisione una medicina che si localizza nei punti dove c'è maggior accumulo dove in qualche modo viene veicolato quindi c'è una somministrazione questo è un esempio di terapia che viene fatta per tumori neuroendocrini del tattro gastroenterico pancreatico si localizza in un punto una volta localizzato la molecola viene quindi internalizzata nella cellula la radiazione emessa rompe la catena di DNA e quindi uccide la cellula tumorale abbiamo quindi quella che è la diagnosi che è stata fatta e la terapia questo è un esempio nei tumori neuroendocrini ma può essere utilizzata per tutto viene utilizzata soprattutto in campo oncologico ma ipoteticamente può essere utilizzata per uccidere qualsiasi cellula che non è che è malata o porta malattia in questo mio ragionamento sto pensando per esempio a quelle che sono una problematica oltretutto molto grossa che quelle che sono le infezioni perché il principio potrebbe essere benissimo applicato anche a uccidere in campo clinico c'è poco qualche studio lo stiamo un po' approcciando ma insomma ci vuole un po' di tempo per verificare se è effettivamente così lo posso usare in campo infettivologico posso uccidere quindi un batterio che è patogeno o anche un virus la dimensione ovviamente è l'ultimo dei miei pensieri io sto lavorando a livelli subatomici il problema non è certo capire se riesco a colpire un virus piuttosto che un batterio le dimensioni per me sono il mondo confronto quello che poi è il punto di arrivo che è un po' la nuova frontiera che sta appurando insieme è quello della teragnostica gli inglesi quando vedono la GN un po' danno fastidio quindi loro la chiamano teragnostica se digitate su Google o comunque su internet quasi sempre è teragnostica perché da fastidio comunque inizia unisce insieme terapia e diagnostica e unisce insieme lo studio la stessa molecola esistono isotopi come dicevo nelle prime slide che uniscono tutte e due le caratteristiche insieme nello stesso identico molecola nello stesso identico atomo può fare sia emissioni beta più che emissioni beta meno può fare imaging e può fare terapia da un punto di vista regolatorio da un punto di vista autorizzativo da un punto di vista di studio clinico questo è un bel vantaggio perché la molecola è una scusatemi che può essere applicata sia su un versante che sull'altro insieme è una questione di dosaggi ma per cui si può fare questa differenza la teragnostica è quello che voi studierete un domani più di adesso perché adesso si sta iniziando un po' ad avere un'idea un ragionamento su quello che si può fare e credo che il futuro sia anche passando per questo settore in questo campo qua grazie spero di avervi non annoiato più di tanto grazie grazie mille Giancarlo la tosse è qua imperversa grazie mille per il suo intervento grazie per quello che ci ha riferito buon appetito ecco ha già anticipato perché in effetti l'hanno già capito l'hanno già capito ok sono perspicaci che dire Gianpaolo il festival del futuro può fermarsi questa giornata e mezza per una pausa pranzo sì una pausa pranzo ma ci ritroviamo insieme nel pomeriggio abbiamo ancora tanti temi da analizzare a fra poco a tra poco grazie dopo tutte le ricette che abbiamo creato avremmo potuto dedicarci ad altro e invece abbiamo realizzato la sfoglia più ruvida e corposa di sempre per avvolgere un ripieno ancora più ricco e deciso così il tortellino fa sentire di che pasta hai fatto nuove sfoglie a grezza ancora una volta ancora più buoni e per il rodeo c'è tempo grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.